Io gli insegno a me niente di male, gli insegno a diventa uomo adesso. Il mio nonno dice che per beccare le fiorentine ci vogliano 9 F. Fortuna, fammi, fa felice, fine, fammi, fottere, fanciulle, fiorentine. Hai capito? Io un giorno ti porto all'ospizio e ti lascio lì, capito? Che stanno a me ancora non sentirei, ragazzo? O che gli insegno di male? Il toscanaccio del cinema, forse è questo l'aggettivo che meglio riesce a racchiudere la figura di Novello Novelli. Se n'è andato all'età di 87 anni lasciando in eredità uno dei volti che più ha rappresentato il caratterista della toscanità. Era nato a Poggi Bonzi nel Senese nel 1930, proprio dove ha vissuto gli ultimi istanti della sua vita. Nome di nascita, Novello Antonio Novelli, l'esordio nello spettacolo, prima come impresario, poi come attore, con la gavetta consumata sul palco del Teatro Metastasio di Prato, dove incontrò il gruppo dei Gian Cattivi. Benvenuti a Tina Cenci, Francesco Nuti. Proprio come Spalla di Nuti arriva la notorietà, da Ovest di Paperino, diretto da Benvenuti, al signor Quindicipalle. Ho lavorato 40 anni alla Sibbe io. 40. Ha lavorato anche con Pieraccioni, Ceccherini e Mario Monicelli nel suo ultimo film dedicato ad Amici miei. Tutti oggi lo ricordano, rileggendo la filmografia La Mente Vola, a quella comicità genuina, all'ironia arguta e soprattutto al suo essere un maledetto toscano. Grazie per la mostra! Grazie.